Giuseppe, benvenuto in Biancorosso, innanzitutto che ambiente hai trovato? Grazie, no bene bene, ho conosciuto già qualcuno della società, ho visto il centro sportivo, è tutto stupendo e non vedo l'ora di iniziare a conoscere i miei compagni di squadra, il mister, lo staff, sono qui e sono contento. Con quale approccio arrivi? Con voglia di far bene, di poter aiutare la squadra, fare il massimo per loro e per lo staff. Conoscevi questa realtà indirettamente? Sì, ho parlato un po' con qualcuno, con qualcuno che è passato di qui, qualche giocatore, tutti quanti mi hanno parlato bene, sono contento di essere qui. Come ti descrivi? Il difensore, come ti descrivi, è giusto che un mister ti chieda le cose e tu metti in pratica tutto ciò che ti chiede il mister, quindi posso essere bravo con la palla, senza palla, ma l'importante è ciò che vuole il mister, ciò che è importante per la squadra. Tu sei giovane ma hai già una buona esperienza, tra l'altro, in Serie A e in Serie B. Sì, ho la fortuna con la mia squadra di giocare in Serie A e in Serie B, ho fatto bei campionati, ho vinto un campionato, altri non sono andati bene, però l'importante che ora sono qui è di poter far bene con questa società. Quali sono i momenti che ricordi meglio, con più piacere della tua carriera? C'è anche una parentesi azzurra. Sì, è stato con l'Under 21, è stata una chiamata dopo che avevo vinto il campionato di Serie B, poi è arrivata questa chiamata e io contentissimo perché all'inizio me l'aspettavo, ancora non avevo fatto nazionale, mi ritrovo lì, è stata un'emozione stupenda. Quale saluto ti senti di rivolgere ai tifosi bianco-rossi e ai partner della società? Saluto tutti i tifosi e tutti i partner della società e ci vediamo allo stadio, sperando di una stagione super positiva.